La lotta all'euro, c'è chi dice che bisogna uscire dall'euro perché l'euro ha fatto male all'Italia e la nostra risposta è che senza l'euro noi non ci saremmo salvati, avremmo fatto la fine dell'Argentina e se domani mattina, per pure ipotesi, noi uscissimo dall'euro, ci sarebbero anche qui a Trieste, come in tutto il resto del paese le code delle persone semplici, dei risparmiatori semplici, i lavoratori pensionati fuori dalle banche, degli uffici postali perché perderemmo immediatamente il potere d'acquisto dei nostri risparmi dice che ci sarebbe un vantaggio per l'export italiano, forse nell'immediato ma forse anche no perché ci sarebbero immediatamente meccanismi e dazi nei confronti delle nostre merci i mutui a tasso variabile avrebbero un'impennata e porterebbero al collasso i bilanci di migliaia, decine di migliaia di famiglie bisogna essere seri su queste materie, non indicare una soluzione che non è una soluzione ma un'altra tappa della malattia noi diciamo andiamo in Europa per cambiare la politica dell'Europa perché certo che non si esce da questa crisi la più grave del secolo solo a colpi di parametri rigidi o di vincoli o di austerità o di rigore nel bilancio bisogna tornare ad investire, tornare a creare lavoro, occupazione, tornare a dare chance e opportunità alle nostre imprese e per fare questo bisogna che l'Europa volti pagina e il voto al PD mai come questa volta è un modo per voltare pagina all'Europa Perché è così importante andare a votare per queste elezioni europee? Perché l'Europa non è più l'Unione Europea, l'integrazione politica, monetaria, commerciale non è più per l'Italia quello che tecnicamente chiamavamo un vincolo esterno per quanto virtuoso avevamo l'obbligo a rispettare alcuni parametri e questo avrebbe aiutato il Paese a fare le riforme No, oggi la politica europea è la politica interna, noi siamo dentro l'Europa non c'è nessuna possibilità di recupero strategico della competitività del nostro Paese fuori dalla dimensione dell'Europa e allora per fare in modo che l'Europa cambi radicalmente la sua politica, accennata all'austerità, alla rigore e sia invece protesa verso politiche espansive, di investimento pubblico, di rilancio dell'economia, dell'impresa bisogna che al vertice della Commissione Europea ci sia una forza, l'espressione di un campo che è quello del socialismo e dei democratici europei nel quale il PD è entrato a pieno titolo c'è un candidato, Martin Schulz, alla guida della Commissione all'indomani delle elezioni se questo gruppo di cui noi faremo parte esprimerà un parlamentare europeo in più l'Europa cambierà a volta e cambierà pagina e cambierà politica altrimenti non accadrà, ma io sono abbastanza fiducioso che possa accadere L'Italia contribuisce per il 16% al bilancio europeo, però circa il 10% appena rientra proprio perché molto spesso non si fanno domande, l'Italia è impreparata a richiedere i soldi su questo bisogna lavorare molto Stiamo migliorando però, sì bisogna lavorare molto, lei ha ragione, ma stiamo migliorando anche nell'accesso e nell'utilizzo dei fondi strutturali europei all'ultimo Consiglio europeo ci siamo battuti, il governo italiano si è battuto perché si sbloccassero 8 miliardi di cofinanziamento italiano fuori dal patto di stabilità all'accesso ai fondi strutturali europei le regioni stanno facendo un lavoro prezioso in questa direzione soprattutto alcune regioni, io penso che bisogna insistere su questa strada ma un buon risultato del PD potrebbe aiutare anche in questo senso Senta, a Roma vi siete trovati ieri, diciamo un po' là, quella un po' più scalpitante, quella ruspante e non siete molto, soprattutto da lei, ma non era molto convinto del fatto che il PD rispetto alla nascita sia cambiato con un rischio magari di un Renzi che assomiglia un po' troppo a quello che ha fatto Berlusconi nel suo partito cioè tutti che vanno attorno a un leader dove il leader comanda e gli altri, bene o mai, non dico che votino, però poco manca Ma no, no, non è così Stavate abbiamo fatto una bellissima assemblea a Roma aspettavamo 400 persone, ne sono arrivate mille, vuol dire che la voglia di discutere c'è sono intervenute decine di persone esperienze della società civile più organizzate c'è stato uno straordinario intervento di Don Massimo Mapelli che guida la Carita Sanbrosiana e ha raccontato la crisi dalla parte di chi davvero non ce la fa abbiamo parlato con economisti, abbiamo discusso con tanti segretari di circolo tra questi interventi c'è stato l'intervento di Delema che non ha detto quello che ha detto lei ma l'intervento si può tranquillamente ascoltare ha detto c'è una nuova fase, bisogna sostenere con lealtà, con convinzione l'azione del governo sostenere le cose buone che il governo fa nella persona del Presidente del Consiglio poi serve un partito che discute, un partito vivo, vitale ma da questo punto di vista tutto si può imputare al PD ma non di non essere un partito che discute adesso inizia la campagna elettorale dobbiamo essere impegnati a fare un grande risultato per il Partito Democratico parallelamente dobbiamo costruire le ragioni e le politiche di una nuova sinistra dentro questo nuovo inizio del PD e io sono impegnato in questo Isabella De Monte è stata presentata nella sede del PD a Trieste spessione di tutto il PD regionale, cioè tutto il PD triestino a sostenere di essere la candidata del Friuli Venezia Giulia ovviamente candidatura epicente ovviamente il Friuli piace o non piace siamo a te una parte i campanilismi, ti abbiamo ascoltato e sembra che è l'idea abbastanza chiara su cosa vuoi per il Friuli Venezia Giulia in Europa beh sì innanzitutto devo dire dalla mia esperienza anche amministrativa io nasco come amministratore locale, prima anche come legislatore ho avuto modo di prendere coscienza e conoscenza di quello che significa essere in Europa a dire il vero in regione Friuli Venezia Giulia abbiamo già un laboratorio d'Europa noi siamo Europa perché comunque siamo un incontro di culture diverse e quindi penso che per noi della regione Friuli Venezia Giulia sia naturale e logico essere in Europa ma poi aggiungo anche che come esperienza amministrativa ho toccato con mano cosa significa realizzare proprio progetti europei progetti europei non sono semplicemente fondi pubblici perché questo lo potremmo avere perché no anche in regione oppure con finanziamenti ministeriali quello che è diverso è che ci pongono in una strategia che ovviamente è sovranazionale è strategica per realizzare le opere che sono anche funzionali rispetto ad esempio ad altre regioni rispetto ad altre nazioni, non possiamo pensare di essere isolati anzi dobbiamo pensare di essere semmai competitivi essere in una realtà più ampia nella quale confrontarci Devo farti due domande ben precise la prima che ne abbiamo già parlato la settimana scorsa a Piazza Grande con la tua collega candidata per la Triestina sotto Italia dei Valori la Zennaro che si occupa proprio di valutare schede e progetti europei e ci spiegava come in molti casi per dirigenti funzionali non preparati anche in Friuli Venezia Giulia si perdono fondi e adesso c'è un nuovo settennale e lei ha già scambitato in regione non è che perdiamo di nuovo i fondi e effettivamente c'erano dirigenti che non sapevano neanche che esistessero da questo punto di vista la politica cosa può fare visto che non è che puoi assumere gente nuova così? Beh io come gita istruttiva molti anni fa sono andata a Bruxelles e ho imparato come addirittura sia stringente il modo di redigere la domanda per partecipare ad un progetto europeo perché comunque i valutatori impiegano pochi minuti ma semplicemente perché comunque da persone estremamente competenti rispetto al progetto stesso sanno capire dalla domanda se il progetto è meritevole o meno quello che noi dobbiamo fare è avere questa consapevolezza che comunque ci deve indurre ad una professionalità molto forte se siamo agli ultimi posti come certificazione della spesa significa effettivamente che una marcia in più va messa pensando che ormai le fonti più importanti proprio di finanziamento sono rappresentate dall'Europa per i motivi appunto che prima ho detto quindi che cosa possiamo fare? Dobbiamo investire di più effettivamente sulla formazione alcuni si stanno attrezzando si sono già attrezzati con degli uffici specifici magari anche convenzionati tra i comuni per cui ecco la nascita di questa consapevolezza non può che ovviamente avere come conseguenza anche una professionalità molto ferrata Ecco l'altro tema noi spesso ne parli nei tre giornali nazionali del problema dei clandestini al sud di Lampirusa e quant'altro però anche Trieste nell'ultimo anno, 9 e mezzo sta vivendo una situazione non facile c'è la gente che abita nelle zone dell'altipiano calcico che scalpina la stessa manutenza slovena comincia ad avere problemi perché effettivamente il numero soprattutto di afghani che arrivano dalla rotta balcanica comincia a essere tantissimo noi vediamo autobus pieni ogni giorno di persone che vanno su e giù si sta cercando una soluzione ma non è facile quindi anche su questo anche il Fondazione di Giulia e Trieste in particolar modo rischiano di diventare una Lampedusa 2 se non si interviene per il momento ce la facciamo però anche su questo l'Europa non può lavarsi le mani dando un po' di soldi e poi arrangiatevi come finora è stato fatto su questo la posizione di te che dovresti difenderci proprio visto come espressione del nord-est ma in realtà tutte le coste dell'Italia sono luogo ovviamente di approdo ma in realtà luogo di approdo è l'Italia ma non luogo di destinazione finale proprio per la situazione di crisi economica è quasi un luogo proprio di transito quello che dobbiamo fare è forse migliorare tutti i progetti che esistono sull'accoglienza noi abbiamo avuto proprio la settimana scorsa l'incontro con Alfano in commissione che ha trattato tra i vari argomenti anche quello dell'immigrazione ad esempio i posti dei CIE sono stati già raddoppiati da 3.000 a 9.000 verranno portati a 18.000 quindi è un notevole investimento da parte dello Stato quello che secondo me dovremo imparare a fare è una maggiore integrazione non solo limitarci all'accoglienza perché ad esempio anche in materia di minori non accompagnati c'è un vincolo di assistenza fino all'età, alla maggiore età dopodiché purtroppo questo progetto appunto decade quindi dobbiamo avere innanzitutto un approccio di accoglienza integrato ma soprattutto anche pensare comunque a quello che sarà il loro futuro per evitare che ci siano magari appunto degli scontri tra chi abita e chi invece arriva Ecco l'ultima domanda prima di farti andare a pranzo che se no poi mi picchiano i tuoi colleghi di partito è che è un po' la fanta politica noi come area nord-est abbiamo Fulvenza Giulia, Trentino Alto Adige Veneto ed Emilia Romagna però molto spesso ovviamente è molto difficile portare un candidato della regione Fulvenza Giulia per ovvi motivi così come del Trentino nell'ambito appunto di questa integrazione maggiore pensare di vedere dei collegi che nelle aree confinarie siano ex-Stato perché probabilmente Fulvenza Giulia Trentino Alto Adige Carinzia e Slovenia probabilmente avrebbe più un senso perché magari tu conosci molto meglio i problemi di queste zone che non magari dell'Emilia Romagna e i romagnoli e gli emiliani di casa nostra quindi come l'avevi dice c'è questa possibilità di fare appunto un'Europa la famosa Europa delle regioni o delle macro regioni piuttosto che degli Stati che dopo rischiano di penalizzare proprio le aree di confine beh questa è sempre stata l'idea l'Europa delle regioni che appunto valorizza soprattutto questi territori che spesso magari sono diversi appunto nonostante siano confinanti in questo caso per la parte italiana e magari più omogenee rispetto a Stati esteri però ecco io penso che in ogni caso un ragionamento debba essere semmai in questo senso di carattere strategico ma non ai fini esclusivamente elettorali siamo consapevoli di avere una regione piccola con magari meno abitanti certamente rispetto a quelle che ci sono vicine però comunque la scelta del Partito Democratico è stata una scelta unitaria indicando una sola persona oltretutto e pertanto io credo che ci dobbiamo concentrare con le nostre forze ma anche oltre anche facendo riferimento alle altre regioni proprio per contare di riuscire a raggiungere questo risultato la scelta di riuscire a raggiungere che si è andata